Noi dobbiamo resistere, è la nostra storia, abbiamo mille anni di storia come Paese e non possiamo permetterci che il mondo attuale ci cancelli. Abbiamo la nostra storia, il nostro orgoglio, dobbiamo resistere. Le nostre vallate sono nate con la castagna, perché la castagna è stato il frutto che ha dato la possibilità di colonizzare la montagna, perché facendola seccare c'era la possibilità di conservarla in inverno. Perciò con l'avvento della castagna abbiamo iniziato a togliere i boschi selvatici e a trasformare una vallata intera in un intero frutteto. Producevamo castagne per uso, per mangiare e per vendere. Adesso purtroppo l'abbandonazione dono della campagna, il fatto che la castagna ha un valore basso sul mercato, per cui non dà più il reddito. Una volta si raccoglievano le castagne per mangiare, oggi la castagna deve dare reddito, in questo momento la castagna non dà più reddito. Il problema sarebbe di avere degli aiuti per finire sui mercati importanti, con quel poco prodotto che è rimasto, che dia un valore di sopravvivenza, perché ormai la montagna è sopravvivenza.